Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si segnalano code a tratti tra Valdarno e Firenze in Pruneta e rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante del Valico in direzione Bologna. In A11 code a causa del traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A12 code a causa di lavori tra il raccordo Luccaviareggio e Versilia in direzione Genova. In Fipili per lavori tre chilometri di coda tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina verso Livorno e un chilometro verso Firenze. Da segnalare anche code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Vediamo con i canteri della città di Firenze a causa di lavori edili dal 4 al 7 maggio di vieti di sossa e transito in via Giotto tra via Orcagne e via del Ghirlandaio. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!